Solo silenzio, nessuna solidarietà al sindaco, non lo straccio di un commento, neanche dall'inutile tavolo politico riunitosi nella serata di ieri a cui Cascella non era neanche presente. Tavolo politico servito solo a ribadire velleità ed appetiti. Per le forze politiche di maggioranza quindi a Barletta la scorsa settimana non è successo nulla. Il botta e risposta tra il sindaco e la presidente del Consiglio Comunale Carmela Peschechera, la lite furibonda tra Cascella e il segretario generale Giovanni Porcelli, sembra non siano mai accadute. Eppure i due episodi fanno esplodere in modo evidente la dura realtà che fanno di Barletta una città ingovernabile. Non solo un ceto politico di basso livello ma anche una burocrazia soffocante. E' notorio come la burocrazia italiana ci provochi maggiori costi per circa 60 miliardi di euro all'anno e in questo Barletta non manca di dare il suo contributo. Cascella ha le sue responsabilità. Lui ha scelto il segretario comunale. Lui scelse il mitico Giuseppe Merra che se ne andò dopo poche settimane e dopo aver evitato di firmare qualunque cosa neanche mettendo la croce. Lui ha scelto di recente Gian Rodolfo di Bari detto Manos de Piedra, l'uomo del cavillo, del parere, del timbro leggibile della marca d'abbollo che ha già esasperato sindaco ed esecutivo. Ma quello del rapporto tra la politica e la burocrazia è un problema antico. In parte riuscì a risolverlo il sindaco Salerno con una serie di incariche affidate in modo fiduciario a giovani dirigenti che si fecero valere. I risultati si videro. Barletta volò. A onor del vero volò anche qualche scrivania quando qualche delibera segnò eccessivamente il passo. Ma questo faceva parte, diciamo così, del senso pratico di Salerno. Quei dirigenti restarono anche con Maffei ma erano troppo capaci per quasi tutti gli assessori di cui il nuovo sindaco si era circondato e sul cui livello più che un velo pietoso avvastiso un sudario. Naturalmente ne furono sovrastati. Risultato? Alziamo il livello degli assessori ma no, abbassiamo quello dei dirigenti che infatti ebbero il ben servito in tempi rapidissimi. A nessuno fu rinnovato l'incarico e Barletta si ritrovò a dover ricominciare punte da capo. Facendo leva solo sui dirigenti rimasti c'è quelli con incarico a tempo indeterminato. Questo giusto per ricordare la storia degli ultimi 15 anni. Ma torniamo al silenzio della politica. È intervenuto il solo Dario Damiani a cui il sindaco ha prontamente risposto. Come già detti, i due hanno ormai un rapporto epistolare consolidato. Novelli John Keat e Fanny Brown. Forse saranno i primi a iscriversi al registro delle unioni civili se e quando dovesse essere approvato dal Consiglio Comunale. Dalla maggioranza nulla. Il perché è facile da spiegare. Continuando il braccio di ferro sulla composizione della Giunta, le forze politiche di centro-sinistra sono ben liete delle difficoltà che la burocrazia crea a cascella. Anzi, in alcuni casi, come sui regolamenti di unioni civili, iussoli e istituti di partecipazione o sul Benedetto Ecocentro, i ritardi vengono addirittura sollecitati. Che il sindaco si cuocia pure nel suo brodo e il passaparola dei malpancisti, in attesa delle regionali passate le quali si preannuncia il definitivo regolamento di conti di una consigliatura cominciata male che continua peggio.